e bella tutta la benvenuti su un nuovo video io sono me con tutti favoriti e oggi siamo su clash royale e oggi vi spiegherò come parlare con la supercell voi dovete andare in postazioni guida e genitori guida e genitori e così vi dice voi andate qua mettete 5 stelline no, non gli vogliamo inviare un commento facciamo un'altra domanda e ci chiediamo bella leggendaria e inviamo il tuo messaggio sarà ricevuto dagli assenti genitori grazie per la leggendaria ora ci deve solo rispondere e vi chiamerò vi... ecco qua salve sfidante questo messaggio automatico contiene informazioni sui pauli leggendari le carte leggendari e ulteriore domande all'intero di questo terreno non attendo una risposta non è possibile ottenere carte leggendari negli spiriti pauli e nel negozio non... non ci è possibile allargare carte leggendari o per levare le carte che un giocatore troverà nei pauli l'assistenza vabbè così è ecco qua come si può fare a parlare con la supercell ciao ciao ciao